Vicenza-Milan 1-6 termina questa partita amichevole di ieri 6 agosto 2022 dove il Vicenza non ha brillato ma invece ha brillato in maniera incontrastata e determinata il Milan, la squadra rossomera per eccellenza. A segnare per il Vicenza da subito è stato Alex Rolfini il quale al primo minuto di gioco ovviamente nel primo tempo la butta dentro e fa un bellissimo gol. Un inizio sfolgorante, meraviglioso, reattivo per il Vicenza ma è l'unica forzazione positiva di questa squadra calcistica. Per il resto poche occasioni e tutte esplicate. Il Milan invece è reattivo, è straordinariamente bello da vedere, c'è il suo debutto di Gataere e a segnare i secondi è stato Leao al 11esimo del primo tempo, Ionior Messias al 21esimo del primo tempo, Rebic ne fa ben due al 30esimo del primo tempo e al 69esimo del secondo, poi c'è un autocorre di Nicola Dalmonte al 31esimo del primo tempo e infine Fikaio Tomori che la butta dentro al 50esimo del secondo tempo. Partita dove il Milan secondo me ha determinato un risultato piacevole ma efficace e dove soprattutto ha colpito in maniera incontrastata, giocando in maniera veramente piacevole e al tempo stesso garantista per se stessa, quindi per questa proposta calcistica. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate con stato carato e al prossimo.